Non ci andremo e invece siccome la brava e bella Linda ci ha appena insegnato un paio di cose e anche lei contribuisce a cercare, la farei anche entrare un secondo perché secondo me la sua voce a tutti c'è il fastidio, se sei d'accordo Linda vuoi leggere un attimo? Sì, i fastidi in tempo reale, in real time In real time Allora, Ugo Gnipo Solave, cos'è che ci scrive? Stay Storm, Stored Tuned anche se sono molto busy con aff Molto challing Molto challing E poi anche Stormline temporalesca e Summer Storm, non è meraviglioso? Vabbè, cosa volevo dire secondo te? Non si sa, non si sa niente